L'Illumination! Ci leggi la favola della buonanotte? Ok, vediamo di sbrigarci. Tre micini amavano giocare, al sole tutto il giorno volevano restare, ma arrivò la mamma e subito gli disse è ora che i micetti vadano nei letti. È una scemenza! Mi piace davvero! Da Illumination, i creatori di Cattivissimo Me. È morbidoso! Pets, vita da animali. Mi sento eraico! È bello! Un po' bagnato, ma sempre fico. Il Grinch. Lei è brutto e cattivo! Singer. Stai bene? Oh, ci sto benissimo, cazzi, eh? E lei? Minions. Hey, Bob! E Super Mario Bros. il film. C'è un enorme universo là fuori. Quest'anno, Illumination porta al cinema un film per tutta la famiglia. Ci siamo! Torsione penne caudali? Pronto! Spiegamento, Ali? Pronto! Voliamo. Prendi il volo! Non ce la faremo mai, vero? Ciudemi! No, no, no! È solo il film per tutta la famiglia! No, no, no! Prendi il film. Prendi il film per tutta la famiglia. Prendi il film là,